Buonasera a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono MaternityR8 ed oggi siamo qui su quello di Televanzity Warfare con Magma e poi mi sono comprato inoltre l'Exo Italia, quindi ragazzi siamo abbastanza scioppati ma tra l'altro ragazzi sembra che da quando mi sono comprato Magma in pratica due minuti fa l'arma si è diventata più forte, non so se è l'effetto che fa mamma mia, veramente è fighissimo non c'è nessuno, va bene, nessuno allora vai, c'è qualcuno invece di qua oddio ragazzi guarda, che bastardi vai, l'ho messa tutte le mie armi benissimo e poi devo dirvi che io ogni mese farò le ricariche del portafoglio della Playstation non volete sapere perché le farò perché appunto voglio comprarmi, voglio essere shoppato anche quando avrò Black Ops 3 perché c'è l'arma normale, cioè il zio che me ne faccio è l'arma normale e voglio essere shoppatissimo e avete visto un attimo l'exo Italia che tengo dietro e anche il caschetto dell'Italia, in pratica tengo tutto forse mi conoscono se dicono quello è maternity, sì sono io, caso mi vedete voi all'improvviso e stavo raccontando che appunto io farò sempre le schede ricaricabili della Playstation i codici da aggiungere al portafoglio perché appunto voglio comprarmi tutte queste cose sfiziose e se voi volete che me ne compri per esempio che faccio tutto il completo magma per esempio in questo video commentate se devo prendermi pure l'exo magma così facciamo il completino proprio il magma ok, ora invece pensiamo alla partita vai, stronzetti venite dove l'hai visto? dove l'hai visto? cioè io non lo vedo, l'ho scoperto oh pementi oh bellissimo madonna, queste cose sono proprio divertenti quando ti chiedono oddio oh c'è qualcuno di qua? no benissimo ragazzi si mi metto a camperare? c'è qualcuno là mi hanno genio ecco mannaccia la miseria ecco qua ecco qua ah sì mamma mia vedo tutto rosso oddio c'è la morte oh anzi siamo scioppatissimi cioè ole mamma mia ragazzi vi do un consiglio anche se io non lo rispetto mai purtroppo perché tengo l'impulso quando vedete un nemico non ricaricate dopo aver chillato una persona ecco vedete non dovete ricaricare per esempio se l'avevo chillato ora non dovete ricaricare perché se trovate un'altra persona e tenete il caricatore vuoto completamente mannaccia il diavolo mannaccia non è morto oh no 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 dobbiamo fuggire ragazzi andiamo si deve aprire questa porta si dovrebbe no mannaccia no guardate che bastardi ragazzi dobbiamo fuggire non so perché dobbiamo fuggire però dobbiamo fuggire appunto e basta ne facciamo che fuggiamo c'è il warbird no ok 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 ragazzi corriamo e perché no no ragazzi ci hanno bloccato fate gli stronzi a camperare si ma ora vi devo fare proprio il culetto rosso proprio devo fare il culetto talmente che vi devo fare male dove state è uno poi ci sta un altro stronzezzo che cazzo oddio ma anche il lato di brutto mi dicono eh vai 4 minuti e 27 ma sei una puttana proprio cioè non apposta ma lo sei proprio da ti proprio di mestiere vai vai killato se finisci di fare il tuo mestiere ok benissimo siamo al terzo posto non ci farebbe dispiacere se arrivassimo al primo e vincessimo però credo che stiamo per perdere malissimo credo tra una kill credo che abbiamo perso benissimo ragazzi direi che per questo episodio è tutto e è stato veramente bellissimo essere chillati da questi stronzi vero bellissimo ah e là ero io e direi che vi ringrazio sempre per i 233 iscritti un abbraccio maternini tiraotto ciao ciao